Palmiero Rucchielli oggi ospite negli studi di Rossini TV dopo tre giorni che è tornato operativo in municipio dopo questo brutto periodo di convalescenza. Le chiedo innanzitutto come sta e com'è questo ritorno al lavoro? Ma intanto grazie di questa prima opportunità dopo una decina di giorni, otto giorni di ospedale e poi una ripresa abbastanza graduale. Sto abbastanza bene come si vede, non ho assolutamente nessun impedimento quindi diciamo che sono stato mezzo miracolato. Devo ringraziare la struttura della medicina dell'ospedale di Fano. È stata una bella botta, però insomma io sono un combattente, cercherò di far tesoro di questa pausa forzata perché nella vita ho sempre camminato a velocità supersonica, mettendo al centro gli interessi della comunità, dei cittadini, i problemi economici, sociali, la necessità di dare alla città di Vallefoglia tutte le strutture fondamentali come un nuovo depuratore, nuovo comune, nuovo teatro. Cioè in verità abbiamo fatto in questi anni, quasi nove anni oramai, Vallefoglia diciamo quasi tutto nuovo e questo ha richiesto un impegno davvero straordinario, ma per me la velocità supersonica era una costante di tutti questi anni dei ruoli che ho avuto, sia di Presidente della provincia che del ruolo parlamentare eccetera. Però adesso cercherò di darmi un po' una calmata, insomma, nel senso che bisogna far tesoro anche di fenomeni che sono quelli della tutela della salute che vanno prima di tutto salvaguardati, anche perché, come dico sempre scherzando, se uno non sta bene non può nemmeno servire nel migliore dei modi gli altri. Quindi adesso ho cercato di rivedere un po' le questioni fondamentali. Devo ringraziare, non so, infinitamente tante, tantissime persone, mi hanno fatto, devo dire, molto commuovere perché, insomma, la vicinanza è stata tanta e tale che veramente non so nemmeno se ho meritato tutta questa, diciamo, solidarietà. Questo abbassamento di velocità supersonica, come lo definisce lei, si deve conciliare con il rush finale di questo ultimo anno di mandato. Le chiedo come si immagina, dal 2024 in poi, se questo episodio ha cambiato anche la percezione di quello che sarà il suo futuro. Intanto arriviamo al 2024 e devo solo inaugurare tutte le cose che abbiamo fatto. Poi si vedrà se serve, non lo so, cosa farò da grande, insomma, sono abbastanza grandino, ci ho avuto sempre una voglia, una passione straordinaria e devo dire che penso di tornare alla normalità delle persone normali, perché io ho fatto una vita, quella mattina, quando mi è successo tutto fatto, alle 6.25 ero in comune. Diciamo che non è normale dedicare 14-15 ore al giorno, insomma, tutti questi ragazzi che sono stati sindaci hanno dedicato una parte importante, ma non con quel ritmo lì. Quindi riflessione e poi si vedrà quel che succederà nel 2024. Nel 2024 sono elezioni europee, sono elezioni amministrative, adesso si vota ad Ancona, quindi gli scenari possono cambiare di giorno in giorno e poi la vita politica, uno è al servizio se serve, se serve, se non serve, usa il po', lo seguo della vita, finalmente, perché io ho dato tanto, credo di aver diritto anche di godermi un po' la vita, semmai.